Il prossimo Juicy File è una coppia. Lui indossa il classico kilt scozzese, i calzettoni e la sporran, cioè la piccola borsa d'ordinanza, un blazer con fazzoletto coordinato nel taschino. Lei ha una gonna, sempre scozzese, con sfondo piega, cioè il dettaglio della micropiega che consente di allungare il passo. Un beretto di panno rosso con spilla, un po' inclinato alla maniera militare, con lana di perle a tre fili, il colletto che esce dalla giacca e foderato in tartan. Avete indovinato di chi si tratta? No? Ricapitoliamo. Kilt scozzese per due, calzettoni per lui, cappello con spilla per lei. Sono Carlo e Camilla, coordinati nel look come nella vita. Una coppia di cui nessuno può dire, ecco chi porta i pantaloni.